per cercare le ultime novità di pesca e voglio ordinare due o tre cosine ovviamente in questo sito ci vogliono circa una quarantina di giorni prima che arrivi il bello del web che sembrerà un attimo sto cercando una mini cana da pesca un mini muninello un cucchiaino anche se sembra strano a forma di organo maschile e e il modellino di Nemo con la pila che comunque può navigare nel mio acquario con pallotto e Angel i miei tieni da guardie bene cerchiamo bene ragazzi facciamo un po' di shop online e unboxing sono a ricerca sempre di nuovo delle grosse novità sul campo della pesca per poi provarle e testarle sto cercando un mini muninello e l'ho trovato ovviamente lo prendiamo nero 3 ore 65 non so quanto valga tanto per sperimentare va sempre bene e ordiniamo bene Nemo mi sa che l'abbiamo proprio trovato costo costo decisamente il risorio anche se lo perdo questo sarà una bella sorpresa perché è un modellino a pile e che è dentro all'acqua simile al pesciolino adesso devo studiare due o tre cose ma ne vedrete delle belle con questa cosa qua Nemo questo lo ordiniamo sicuro voglio la minica da pesca che assomiglia a una biro questa ovviamente la prenderò nera perché mi piace di più però voglio un muninello classico come questa cosa qua stile americano non mi piace comunque ordinerò pure questa e mettiamo nel carrello ho detto adesso la ricerca e volevo vedere esca esca forma di fallo vediamo se viene viene no allora proviamo esca pene ed eccolo qui è questo che cercavo io questo qua fa ridere non so ragazzi che fa ridere prendiamo un 10 grammi perché il 5 è un po' piccolino e ordiniamo anche questa cosa qua è bellissimo ragazzi è bellissimo sì sì è carrello ora ragazzi sono passati tra virgolette 40 giorni ed è arrivata la roba ora vi faccio vedere che cosa ho preso allora penna a canna da pesca è bellissima una micro canna proprio per tutte le esigenze veramente ottima sono circa meno 60-70 cm grossa resistenza portatile ovviamente in fibra però non bisogna sottovalutarla secondo me l'unico problema sarà il lancio però come potenza di trattenuta poi ho visto un sacco di video americani che tirano su degli orchi sono pronto a vedere che cosa che soddisfazione mi darà abbiamo un micro mulinello pagato 3 ore 60 devo dire la verità buttiamolo via perché fa ridere proprio poi cosa abbiamo in teoria ragazzi questo video dovevo uscire prima però ho fatto altri video comunque con questa roba già comprata dovevo uscire prima ma alla fine l'ho fatto uscire dopo ma va bene lo stesso intanto finché c'ho qualche utenti va benissimo ed eccolo qua eccolo qua ragazzi l'arma definitiva 10 carati no scherzo però bello luccicante sicuramente per predatori da corrente però noi lo proveremo in lago va bene così va bene così poi l'altra cosa che la corretta è buona però l'altra cosa che vi volevo far vedere che ho preso che ovviamente eccolo qua eccolo qua eccolo qua nemo ovviamente con la mia fantasia malata qualcuno avrà capito che cosa voglio farci però non ve lo dico ve lo farò vedere in un altro video alla ricerca di nemo veramente non c'è che mi pesci ma va bene lo stesso tu sei un pesce lasciate un like ragazzi salutate il thai il mio can assassino dai saluta piccolina ciao ciao resta ferma resta ferma lì e salutate anche pallocchio angel mi raccomando ragazzi un bel mi piace attivate la campanellina e il prossimo video ci sarà ci sarà anche un bellissimo montalzo da parte di celsi saluti di